con questo terzo video ci vediamo la costruzione della seconda parte della diga del gleno che venne realizzata ad archi multipli che abbiamo sullo schermo però senza entrare in merito se hanno lavorato bene o male perché questo lo tratteremo col prossimo video ora grazie a queste foto storiche della sua costruzione ci faremo un bel giretto nel cantiere nei vari stadi della sua realizzazione dagli atti processuali risulta che per la costruzione della diga fra acciaio nuovo e residuati bellici ne furono impiegati 5.000 quintali sarà vero ma a me sorgono dei dubbi perché di barre di ferro che escono dal calcestruzzo sia nella costruzione delle fondazioni che durante la realizzazione dei piloni non ne vedo per me le foto sono molto meglio delle parole proviamo anche a ingrandirle ma i risultati non cambiano e su questo sarete d'accordo con me da quando sono state scattate queste foto sono trascorsi quasi 90 anni però questo non dice nulla perché se il ferro c'era lo si dovrebbe vedere comunque le conclusioni le lascio tirare a voi ora andiamoci a vedere dove venivano procurate gli inerti per la realizzazione del calcestruzzo e anche qua le foto sono chiarissime usavano i ciotoli di varie misure che tutte le primavere si staccano dalle pareti con il disgelo e lo si vede bene dai terrazzamenti dove erano cavati dai badilanti e dopo essere stati separati con delle griglie dai ciotoli più grossi caricate le cariole agli scariolanti questi su delle passerelle provvisorie raggiungevano dove stavano realizzando il getto e buttavano il contenuto nell'armatura oltre gli scariolanti per il trasporto del materiale venivano usati pure dei vagoncini spinti a mano su dei binari e credo che queste immagini si commentino da sole ora veniamo alla sua miscelazione col cemento siccome nel processo risulta che bettoniere per l'impasto del calcestruzzo su al cantiere non ce ne erano possiamo solo immaginare come potevano fare sul mucchio di inerti scaricato nell'armatura ci buttavano sopra il cemento e dopo averlo bagnato e mischiato lo sistemavano dove occorreva e a conferma della mia teoria eccovi i vari getti se avete ancora dei dubbi quello appena descritto è il metodo più semplice e sbrigativo per realizzare grandi strutture in calcestruzzo a mano poi se le cose siano andate così al cento per cento non posso garantirvelo ma al 99,9 sì e così giungiamo all'ottobre del 1923 quando la diga come risulta dalla foto è terminata e alle sue spalle si forma un lago artificiale di sei milioni di metri cubi d'acqua finché giungiamo alla nebbiosa e piovosa mattina del primo dicembre quando circa alle sette del mattino le sei milioni di tonnellate d'acqua che spingevano alle sue spalle vincono la sua resistenza e la parte costruita sul tampone che vediamo cede alla forza dell'acqua che comincia a uscire dal fondo della diga sempre con maggiore intensità e pressione intanto anche nella parte centrale ormai indebolita si formano due crepe dalle quali comincia a uscire acqua in quantità sempre crescente ormai essendo stata strappata dal tampone viene dalla potenza dall'acqua ribaltata e buttata in aria come se fosse un fuccello rompendosi in vari pezzi e poi verrà trascinata giù a valle dalla grande massa d'acqua maggiore e maggiore 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 maggiore